A casa vostra avete spazio, perché ne serve tanto per farci entrare tutta la straordinaria offerta di nobili arredamenti. Un soggiorno tradizionale noce o laccato, con cristalliera a quattro porte, tavolo quadrato allungabile con quattro sedie. Camera matrimoniale completa, colori a richiesta. Cucina componibile metri 2,55, completa di elettrodomestici, tavolo e quattro sedie, colori a richiesta. Divano due posti in tessuto sfonderabile, colori a richiesta. Tutto a lire 7 milioni e 100 mila, compresa IVA, trasporto e montaggio. Nobili arredamenti, via del Piave Olbia.